è arrivato il momento di farvi vedere tutte le nuove chicche che ho scovato su questa nuova One UI 6 di Samsung basata appunto su Android 14. Raga il video è lungo anzi i video sono ben due questo è quello dedicato alle chicche della One UI 6 con ben 38 succulentissime chicche e domani arriva quello il video dedicato alle nuove funzioni dell'app Samsung Good Lock potete schippare tra una funzione e l'altra quello che vi chiedo è cercare di guardarlo tutto il più possibile e soprattutto supportare me e il mio canale lasciando un bel pollicione in su e un commentino ho attivato anche l'abbonamento e magari a qualcuno va di offrirmi un caffè scrivetemi nei commenti quale chicca vi è garbata di più chiaramente se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale mettete la campanellina e soprattutto condividete con tutti gli amici che conoscete hanno Samsung condividete questo video so che lo farete per questo vi ringrazio vi lascio in descrizione appunto la descrizione degli smartphone che saranno supportati da questo aggiornamento alla One UI 6 adesso però prendete carta e penna mettetevi comodi che si parte e parto subito a bomba con la tips numero 1 che sarà la prima tips ce ne saranno tantissime altre fighe come questa quindi restate collegati in questo caso abbiamo una funzione fighissima figherrima sulla nuova One UI 6 e ovvero se ricevo un messaggio ad esempio su whatsapp in questo momento me lo sta mandando mia moglie e ho ricevuto il messaggio su whatsapp ma diciamo che la persona ci ha ripensato lo cancella in automatico io poi appena rientro o nel come vedete nel whatsapp di mia moglie mi ha cancellato il messaggio ma io sono una persona curiosa come molti di voi penso e quindi posso andare a rivedere quello che mi ha mandato signori e signori quindi entro su impostazioni vado su notifiche entro su impostazioni avanzate vado su cronologia notifiche e lei e vado a vedere quello che mi aveva mandato ma di fatto se andiamo a vedere bene lei l'ha cancellato è stato eliminato no però io lo posso vedere guardate mi aveva mandato questo che di fatto è cancellato ma io vedo tutto della seconda tips è di fatto la possibilità di editare qua da questo tasto la possibilità di mettere editare i toggle che dovrete vedere con la prima finestrella bassa piuttosto che i toggle della finestrella quella più alta perché oggi abbiamo due possibilità una che se tiriamo giù da un lato viene giù tutto piuttosto che se tiriamo giù dall'altro tiriamo giù il pannello nelle notifiche chiaramente i toggle più piccini chiaramente se facciamo swipe andiamo a vedere tutto il resto che da qui possiamo gestire tutto la nuova lock screen basta tappare due volte veniamo tappato blocchiamo e come vedete abbiamo la nuova lock screen che possiamo in questo caso vedete spostare e dove dove meglio ci pare quindi sempre più personalizzabile sempre più ricca di funzioni chiaramente devo andare spedito e veloce impostiamone una che sia particolarmente confortevole possiamo chiaramente cambiare anche i vari formati del carattere piuttosto che andare a mettere solo l'icona piuttosto che i dettagli eccetera ma non mi voglio dilungare andiamo avanti altra funzione interessante introdotto su questa one ui 6 di samsung è il fatto finalmente di avere i due toggle di bluetooth e wifi che sono di fatto scomposti in questo caso è molto molto più comodo anche perché vi farò vedere delle nuove delle nuove funzioni proprio su questi nuovi toggle ve ne faccio vedere subito una perché oggi abbiamo la possibilità come sapete se mettiamo in modalità offline il nostro smartphone in automatico anche bluetooth così come il wifi si disattivava e quindi dovevamo andare poi a attivarlo singolarmente eccetera invece in questo con questo nuovo aggiornamento ripristiniamo tutto ad esempio prendo le mie cuffiette le mie fidatissie notting ear poi vi farò vedere che cosa sto utilizzando perché ho un set di roba diversa di che parlano lingue diverse ma che per me sono molto efficaci ed efficienti teoricamente quando le prendo loro si sbloccano vedete si sta connettendo direttamente alle mie cuffiette in questo caso faccio fatto sono collegate se vado a fare modalità offline come vedete rimangono comunque i due dispositivi che erano connessi in precedenza azione molto utile è quella di di poter finalmente andare a spostare ad esempio selezioniamo più più app possiamo basta tenerle premute e svipare quindi usare adesso le le dita per spostarle da un punto all'altro piuttosto che selezionarle è in automatico vedete qua sopra altra tips creare una cartella quindi fare un'unica cartella che poi possiamo andare anche a modificare con i vari colori eccetera eccetera rimanendo sempre in ambito di nuovi swipe nuove modalità con due mani ad esempio vado a entro all'interno dei miei album vado nella mia cartella desk che raccoglie diciamo tutti i miei desk selezionati ne seleziono due tre quattro tutti quelli che voglio tengo premuto e in questo caso come vedete possa andare a impilare a inserire all'interno delle dei miei album posso andare a mettere le mie le mie foto selezionate guardate bella pure l'animazione non so se la notate potete andare dappertutto e metterle dappertutto altra funzione fighissima riguarda proprio l'hotspot wifi basterà abilitarlo dal toggle entrare e abbiamo la possibilità di andare a impostare una password monouso quindi questa è comodissima soprattutto quando la dobbiamo dare gente che magari la utilizza una volta sola quindi possiamo attivare e disattivare questa funzione e comunichiamo la password che possiamo pure ripristinare oppure fare inquadrare il quark code con una foto per collegarsi a una password monouso rimanendo sempre in ambito di wifi andando su connessioni entrando all'interno di del wifi qui in alto su tre pallini ci sarà la nuova voce e intelligent wifi e su intelligent wifi per attività e per attivare questo menu segreto connective labs basterà entrare su cliccare più volte su intelligent su intelligent wifi fino a quando non si abiliterà questa funzione connective labs ci aprirà un mondo un mondo legato proprio a tutta la nostra alle nostre connessioni wifi allo stato di uso del wifi alla capacità di giga scambiati sulle varie bande del wifi piuttosto che con tramite questa funzione di home wifi possiamo tranquillamente andare a selezionare esempio la nostra la nostra rete andare a fare un check vi seguirà lui è una cosa facilissima mi chiede appunto di fare un giro io la faccio partire ma sto fermo in questo momento il mio segnale dei 5g non è affatto buono mentre la banda la banda di 5g non è buona mentre quella 2 e 4 è appena accettabile vi da un po una misurazione questo vi serve un po per muovervi a casa e capire dove arriva il vostro segnale rimanendo sempre dentro intelligent wifi vi consiglio di abilitare questa funzione modalità risparmio energetico in wifi che questo è riduce tanto l'uso della batteria l'ho testato prima non l'avevo poi ho deciso di metterlo effettivamente il samsung ha una durata una durata maggiore altra cosa molto carina che si trova sempre all'interno di impostazioni dentro schermo e andiamo scendiamo o in stile dimensione carattere allora il carattere è stato aggiornato quello nuovo il samsung one che io preferisco al vecchio roboto che era il vecchio font diciamo ufficiale della ui 5 questo è molto carino molto elegante vi consiglio di utilizzarlo perché di fatto non è il predefinito il predefinito resta il roboto è inutile dirvi che il nuovo player introdotto da con la one ui 6 è molto molto figo io lo sto utilizzando è veramente veramente bello fra l'altro abbiamo la possibilità tramite un tap di rimpicciolirlo un altro tap renderlo renderlo più grande finalmente la possibilità di impostare le nostre notifiche dando un ordine sia per orario che per priorità io la trovo estremamente estremamente utile come nuova funzione prima erano un po messe a caso adesso possiamo impostarle come orario che secondo me è la cosa più comoda è un po per tutti non posso non fare un passaggio sulle nuove emoji le nuove emoticon che sono veramente belline fatte fatte benissimo hanno un secondo me sono molto molto cioè sono fatte veramente bene a livello di apple ho utilizzato come sapete il pixel per un bel po di tempo c'erano quelle stock di android queste sono veramente un'altra cosa anche a schermo come potete vedere sono veramente belline sempre rimanendo in ambito di layout grafico andiamo alla nuova app meteo che è stata studiata e sono state introdotte le nuove animazioni sempre molto gradevole sempre molto ben fatta e che ci dà tutte le informazioni che vogliamo secondo me questa è una cosa una cosa figa altra novità è che se prima dovevamo accedere al menu per accedere allo sfondo stile temi eccetera tenendo premuto adesso possiamo farlo anche con questo singolo swipe pizzico a proposito di pizzichi di apple ecco qua il pizzico funziona veramente spaziale per quest'altra nuova tips mi occorrerà un un libro prendo uno dei miei libri preferiti fotografia su robert kappa leggermente fuori fuoco abbiate basterà avviare la fotocamera e quando vedete lui con vediamo se riesco a farvelo vedere lui farà apparire subito grazie all'intelligenza artificiale questo tasto tastino basterà cliccare e lui in automatico andrà a fare un da evidenziare tutto il vedete il testo basterà andare a selezionare il testo che vogliamo copiarlo estrarlo condividerlo questa funzione è fantastica è comodissima e restando sempre in ambito di foto fotografico adesso abbiamo la possibilità di andare a inserire la filigrana e possiamo impostare la filigrana come meglio crediamo possiamo modificare il modello posso scrivere vogliamo inserire una date ora con i vari formati scegliere ad esempio anche il carattere e poi impostare per capire dove la vogliamo in basso a destra centrale in alto eccetera molto figo per chi fa video fa per chi fa foto e vuole che al compaia il proprio nome o qualcosa del genere restando sempre all'interno della fotocamera funzione comodissima è quella che anche oggi abbiamo la possibilità direttamente di splittare tra i vari formati 12 megapixel 50 megapixel 200 megapixel questo avviene chiaramente anche con gli altri smartphone supportati senza dover prima bisognava entrare fare delle robe più o meno scomode in questo caso o abbiamo abbiamo diciamo questo mini toggle che ci dà la possibilità di fare appunto questo e lo stesso anche nei video dove come vedete possiamo impostare fps fps piuttosto che le dimensioni del file 8k eccetera eccetera per gli amanti del video come il sottoscritto adesso abbiamo anche la funzione di fps automatico che io onestamente se siete io non l'ho attivata non mi piace perché comunque tendo sempre a lavorare con le fps impostate in base alle situazioni però se qualcuno di voi non è proprio avvezzo a questo genere di cose vuole un video sempre sempre molto performante vi consiglio di inserire di attivare fps automatico di metterlo sia per i video in 30 fps in 60 fps sul tema fps si potrebbero aprire tantissimi scenari quello che vi dico io e ragazzi è inutile utilizzare 60 fps se poi non si rallenta la scena ma su questo poi magari ne parleremo in qualche altro video cosa importante quindi quando andiamo nel menu galleria e andiamo a fare una foto andiamo a editare una nostra foto prenderò ad esempio questa andiamo a modificare come come vogliamo quindi applichiamo che ne so un filtro poi andiamo a regolare il bilanciamento della luce ora io lo sto guardate anche le nuove animazioni che sono molto google style l'esposizione guardate ho cambiato tutto molte mi capita che non mi piace e dovevo sarei dovuto ritornare alla funzione iniziale quindi cancellando tutto in questo caso invece possiamo finalmente tornare indietro con la fercetta esattamente come facciamo con i noti programmi e noti software di editing e questa è un'altra un'altra figata secondo me è molto molto bellina di della nuova guai 6 se io vado a fare vado a modificare una foto mi piace partito mi piace molto come l'ho modificata il tipo di effetto look che sono riuscito a dare a alla foto eccetera eccetera vediamo saturiamo un pizzichino l'ho fatto al volo e non prendete queste posso andare a copiare le modifiche ok le ho copiate poi posso decidere di dove salvo in questo caso poi tanto tornerò indietro in un altro momento e posso decidere di applicarlo a foto simili basterà andare a tappare sulla matitina e andare in col a incollare le modifiche lui in questo caso è andato a prendere tutte quelle modifiche guardate qui che avevo vedete esposizione 51 avevo appena ritoccato queste queste piccole cose lui è andato a modificarsi è per dimostrare che anche samsung sta entrando nella intelligenza artificiale erano delle funzioni che già c'erano però lo fa in maniera intelligente basterà selezionare una foto una delle foto che vogliamo e lui in automatico ci sottoporrà la possibilità di rimasterizzare la foto piuttosto che andare a cancellare è una un caso cancelliamo questa questa tipa qui la cancelliamo piuttosto che fare vedete tantissime altre scarta tantissime altre funzioni fatemi prendere che ne so questa foto qui vediamo che cosa ci consiglia ad esempio qua ci dà l'effetto ritratto ma cambiano che farà lui imposterà lui vedete modifica l'effetto fa ci dice impossibile nessun volto rilevato quando invece il porto c'era vogliamo con questa qua ci dice effetto sfondo e qua possiamo andare a fare esempio la ridurre la sfocatura oppure aumentarla piuttosto che cambiarla illuminare sono tutte azioni molto molto carine che secondo me hanno senso soprattutto oggi che si sta andando sempre più verso quella tendenza restando sempre in ambito di di galleri abbiamo la nuova app vai a studio vai a studio ci permettere di avviare nuovi progetti un po come avviene con final cut eccetera prendiamo esempio prendo a caso qualche qualche video prendiamo qualcuno diverso esempio qua fatto è lui in automatico ce li va a mettere come come se fossero esattamente come final cut abbiamo 300.000 possibilità di aggiungere su colonne sono effetti eccetera eccetera piuttosto che 9 clip vuote filtri ma la cosa più figa è che abbiamo la possibilità di andare a salvare il formato con delle risoluzioni minori questa è una cosa che io vi consiglio di di fare soprattutto utilizzare il full hd piuttosto che sparare sui social di 4k perché tanto quella compressione non vi porta alcun risultato comando iscrivetevi su instagram su tik tok e iscrivetevi e mettere un pollice a questo video non so quanto durerà questa è una chicca che secondo me molti di voi non conoscono e andiamo a sbloccare una funzione nascosta della galleria quindi entriamo qui in basso come faccio vedere entriamo qui in basso su impostazioni scendiamo in basso entriamo su informazioni galleria e andiamo a tappare sulla versione tappiamo 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 fino a quando non non appare questo messaggino qui significa che è stato abilitato lo troviamo in basso gallery labs ragazzi gallery labs apre un mondo vi dico una cosa che secondo me dovete andare a abilitare subito che per me è una cosa assolutamente noiosa è la funzione qua questa che solitamente è messa su default ora vi faccio vedere quindi devo uscire da galleri rientrare in galleri solitamente prendiamo prendiamo video prendiamo questo video per poter fare andare avanti dobbiamo tappare e poi muoverci in questo modo se invece entriamo dentro la nostra amata galleri labs e andiamo qui su video player mode of on film strip e andiamo su legacy video sic bar facciamo ok dobbiamo sempre chiaramente riavviare l'app galleri e ritorniamo prendiamo un altro e prendiamo un altro video e come vedete la barretta è qua quindi è molto più bella molto più comoda si è un po invasiva non basta tappare le si toglie però così si fa in fretta no a fare tutto e restando sempre all'interno della galleria diciamo che già nelle precedenti versioni avevamo visto questa questa funzione però adesso è decisamente potenziata ad esempio prendiamo una foto io continuo a prendere lei basterà tapparla lei prenderà vita e in questo caso possiamo fare diverse cose quindi qua ci sono più chicche in in questo caso possiamo pre lavorare sempre con lo swipe delle dita e andarla a inviare a un nostro amico in questo caso io la sto mandando a me stesso e piuttosto che andarlo a salvare all'interno di un documento piuttosto che tenendo la tappata guardate come scontorna bene possiamo anche salvarla come adesivo salvarla come adesivo è fighissimo perché quando andremo a scrivere sempre il nostro amico io lo faccio sempre a me stesso entrando fra le varie applicazioni in questo caso sticker galleria posso prenderla e inviarla come se fosse uno sticker quindi molto molto carina si può fare tante cose era figa mi andavo a raccontarvela spero vi piaccia sempre restando all'interno della sezione galleria la guai con la guai 6 arriva una nuova funzione una funzione di condivisione che è molto estremamente utile per basterà andare a selezionare una delle foto vedete appare una clip o un toggolino piccolino che ci suggerisce grazie all'intelligenza artificiale guarda marco questa foto è meglio che la mandi però la metti dritta ecco ci darà tutta una serie di vediamo se ne spunta guardate qua un'altra e qua mi dice rimasterizza quindi fa lui direttamente il mi da lui un consiglio in base alle foto che vede qua inclina in maniera tale che io la posso selezionare posso fare un pre editing giusto al volo prima di mandarla chiaramente con i vari con i vari secondo i vari canali quelli che sono i widget è stato fatto un grande lavoro vi anticipo alcuni ad esempio sull'orologio analogico che è un nuovo orologio analogico e vedete come come cambia come hanno lavorato sullo stile a me piace tantissimo questo ma anche la possibilità di rendere il nero bianco di sfondo piuttosto che adattarlo eccetera eccetera è stato fatto un po un lavoro di fino a tal proposito vi voglio far vedere i nuovi widget alcuni nuovi widget che sono stati inseriti ad esempio questi di meteo arriviamo subito mamma mia sono col tempo questi di meteo che sono o che sono nuovi sono devo dire molto carini perché si si integrano hanno queste belle animazioni chiaramente si scuriscono in base all'ora l'orario eccetera eccetera e chiaramente riportano tutti quanti alla alla nuova app sempre a proposito di di nuovi widget sotto la voce di dei widget di google è stato inserito questo che è comodissimo perché ci dà la possibilità di poter interagire direttamente con quello che è il widget classico di google quando mi arriva in calendar un evento mi apparirà qui piuttosto che da qui posso accedere alla nuova app in questo caso la nuova app che vi ho fatto vedere sul sul pixel è fatta anch'essa molto bene nuova introduzione se entriamo nel menu e scendiamo su batteria abbiamo una nuova veste grafica finalmente si è aggiornata non è che quella di prima non andasse bene però onestamente ci dà delle informazioni che sono delle informazioni a mio avviso fatte mail uso della batteria quanto abbiamo fatto delle di uso dei delle chiamate possiamo entrare nei dettagli e possiamo andare a vedere i vari giorni quanto abbiamo utilizzato cosa ha consumato di più quindi fare tutte le nostre lugubrazioni mentali comunque la la nuova app di della batteria è veramente tanto funzionale ci dice tante cose la vedremo la vedremo spesso rimanendo sempre in ambito di menu scendendo andiamo a sicurezza e privacy anche questa è il è stata aggiornata nella veste grafica sono stati impostati dei nuovi parametri e ad esempio quello mi dice contro la sicurezza dell'account controllare samsung account lo farò un secondo momento c'è la possibilità di chiaramente andare a impostare tutti quelli che sono i dati biometrici non entro nello specifico ragazzi in questo caso vi dico semplicemente che qua è molto figa questa nuova funzione grafica che ci dice quali app stanno utilizzando maggiormente diciamo le tre fotocamera microfono e posizione possiamo andare a vedere quando sono state utilizzate quindi se vediamo qualche applicazione anomala che sta utilizzando la nostra posizione possiamo andare a intervenire e qua chiaramente c'è tutto il resto l'attività fisica la rubrica il calendario il connet musica e video eccetera eccetera qui possiamo dare le autorizzazioni o meno togliere le autorizzazioni è veramente fatta bene secondo me su questa farò poi un approfondimento perché merita perché non tutti sanno ogni tanto si danno autorizzazione delle applicazioni particolari sempre meglio evitare comunque brava samsung perché è fatta sicurezza e privacy è fatta veramente 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 bene e non so se non so se un bug però è molto importante perché se noi sempre all'interno di sicurezza e privacy entriamo in sicurezza dell'applicazione protezione app e andiamo su protezione app vedete si apre questo menu segreto assistenza dispositivo che ci dà diciamo una 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 roba diciamo un po più vecchia cioè come il menu che c'era prima soltanto che qui abbiamo è stata inserita la possibilità di fare il riavvio che io mi chiede vi dico vi consiglio di fare in base a un programma ad esempio io ho detto che è tutti i giorni della settimana alle 3 di notte lui deve riavviarsi oppure lo viene riavviato automaticamente quando vengono rilevati problemi di prestazione cioè questa è una cosa che vi che poi è stranissimo però non lo so ora vi dirò anche qui c'è la possibilità anche vedere le sospensioni le applicazioni non utilizzate e altre cose però questo su questo faremo un diciamo un focus specifico prossimamente finalmente se entriamo all'interno del nostro spazio di archiviazione e scendiamo giù andiamo su gestisci archiviazione e finalmente abbiamo tutta una serie di informazioni che non avevamo prima la possibilità come vi consiglierà a lui di andare a cancellare o comunque vedere file meno recenti liberare lo spazio di app che non avete utilizzato i backup invisibili entrare nel cestino andare a vedere le app inutilizzate quindi vi dice non le avete non le avete utilizzate da tempo quindi potete cancellarle cioè c'è un'ottimizzazione incredibile che però non è relativa solo allo spazio di archiviazione interno ma anche a tutte quelle quegli servizi cloud che avete che avete attivato quindi la cosa è fighissima perché va entra nello specifico come avere il computer ed è una cosa ragazzi che veramente non ha non apprezzo restano poi tutte le altre future per esempio come vi ho fatto vedere possiamo andare a vedere quali quali sono le app che stanno utilizzando maggior spazio e quindi andarle a cancellare vedere i file duplicati guardate quanta roba duplicata o io infatti dovrò eliminarla i file di grandi dimensioni quindi tutta sta roba qui che magari non mi serve più niente la vado a eliminare perché poi magari me la ritrovo su onedrive dove ho la maggior parte delle robe piuttosto che in questo caso sulla g suite di google o sul cloud di apple e un'altra funzione interessante è quella che troviamo nel pannellino laterale e il nuovo pannellino laterale ovvero la possibilità di andando sul mio profilo youtube vado a prendere il rettangolo come vedete lui mi va a prendere la il formato della foto e la cosa è che se lo voglio prendere guardate appare questa nuova lente di ingrandimento che mi fa vedere dove ho il dito che fra l'altro prima non vedevo in più quando raggiungo una dimensione sempre il formato 1 a 1 lui me lo seleziona quindi potrei andare a ritagliare questo sapendo di avere una foto esattamente 1 a 1 piuttosto che 5 quarti 4 terzi eccetera però guardate il mio dito è qua sopra non mi farebbe vedere quello che sto prendendo in questo caso lo vedo qua molto molto carino cioè veramente figo una funzione tanto carina del dialer che purtroppo ancora in italia non è arrivata e bxp test col cioè il fatto che quando c'è una chiamata dall'altra parte un po quello che avevo fatto vedere che avveniva con google ora qui mi dice che la lingua italiana è disponibile vado per scaricarla e voilà la pagina collegata non esiste quindi evidentemente ancora non è restata resta disponibile ma secondo me presto arriverà e questa funzione ragazzi è veramente una funzione figa perché quando arriva la telefonata possiamo impostare anche le risposte rapide ed è figo vabbè su questo vi aggiornerò sicuramente su instagram quando arriverà ci farò anche un rilo shorts un tic toc servizio punto altra funzione che è una novità è il nuovo tasto cerca della tastiera di samsung basterà mettere che ne so bottega tech bottega tech e lui dare il tasto cerca e lui mi va a prendere rubrica la galleria con tutti i riferimenti a bottega tech e ad esempio se vado a fare vado a vedere i miei i miei video di youtube che potrei tranquillamente tac impostare e inviare altra funzione è sotto la voce funzioni avanzate e sono gli effetti di videochiamata adesso ad esempio adesso possiamo attivare un'immagine di sfondo quindi ce la andiamo a selezionare una bella immagine di sfondo ad esempio il mio ufficio vabbè è fatta così però possiamo fare giusto per intenderci e quando andiamo a fare una chiamata whatsapp in automatico ci apparirà ci apparirà lo sfondo ci scorporerà dallo sfondo ve la faccio vedere in questo modo perché andiamo a fare una videochiamata a marco come vedete c'è la mia immagine di sfondo io mi sto riprendendo e come vedete ci sono io chiaramente guardate video lungo ragazzi ma ce l'abbiamo fatta iscrivetevi 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 ciao 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 ciao